Ciao a tutti e benvenuti nel canale Porcospino Curioso. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e mettere mi piace ai video per supportarci. Come ben sappiamo, poche ora fa abbiamo appreso la drammatica notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, che è morto all'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni di Silvio Berlusconi si erano improvvisamente aggravate questa mattina dopo quattro giorni di ricovero. Venerdì scorso era stato ammesso nuovamente in ospedale per sottoporsi a una serie di accertamenti programmati relativi alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Berlusconi è stato sempre una figura unica, e sarà impossibile trovare qualcuno come lui. Solo una persona dal carattere gioviale come lui poteva permettersi di scherzare con un gruppo di ragazzi poco prima di essere ricoverato. Questo è ciò che ha raccontato il titolare di un bar a Milano 2 che si era trovato di fronte a Berlusconi prima del suo ultimo ricovero di qualche giorno fa. Le sue ultime parole pronunciate in pubblico, come era suo solito fare in tono scherzoso e ad alta voce, sono state. Ragazzi, ricordatevi che io sono sempre l'uomo più potente d'Europa. Insomma, Berlusconi con la sua consueta ironia riusciva sempre a strappare un sorriso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.